Il quotidiano inglese The Telegraph elogia l'Italia e invita i propri lettori ad emergenza sanitaria finita a visitarla elencando i buoni motivi per i quali scegliere le bellezze italiane come la costiera amalfitana e il cilento. Il quotidiano britannico elenca 20 motivi per cui è bene scegliere le bellezze italiane ma confessa che ce ne sarebbero molti di più. Ci sarebbero 20 dipinti che mi farebbero tornare, 20 ristoranti, 20 panorami, 20 borghi e 20 altre cose in più. Nessun altro paese, spiega l'autore dell'articolo Tim Jepson, ha tante ricchezze e una combinazione di arte, cultura, cibo, vino, moda, teatro, persone e paesaggi che non ha uguali e neppure una combinazione così efficace di antico e moderno, bello e seducente. Il primo motivo per scegliere l'Italia sono gli italiani. Non si può amare un paese senza amare la sua gente, spiega l'autore. Sappiamo che gli italiani spesso si vedono come toscani, siciliani, veneziani o napoletani, ma sono sempre gli stessi con una caratteristica in comune. L'apprezzamento per le cose belle della vita e di belle cose in Italia ce ne sono ovunque. Anche le coste hanno un posto in classifica, tra i primi Amalfi e le Cinque Terre, tra le più conosciute ma anche le penisole del Gargano e del Salento con il loro mare turchese e il cilento selvaggio e roccioso con Acciaroli, Agropoli e Santa Maria di Castellabate.